Il sport è proprio nel DNA di Renault, siamo presenti in Formula 1, in Formula Elettrica dove siamo campioni del mondo, nel rally, in pista, ma non basta, siamo usciti dallo sport automobilistico e oggi sponsorizziamo la nazionale italiana di rugby. Siamo stati attirati dal rugby per i valori che esprime, che sono la forza, la tenacia, lo spirito di squadra e questi valori a noi ci sono serviti l'anno scorso per fare dei numeri record e per avere sempre degli obiettivi sempre più ambiziosi. Sì, speriamo che questo porti fortuna anche alla nazionale italiana. Una sponsorizzazione, siamo intanto sponsor ufficiali, molto completa, tre elementi principali, una comunicazione strutturata, un contest online e la consegna di 31 vetture. La parte della comunicazione integrata sarà molto articolata, abbiamo avuto l'opportunità e il piacere di avere dei giocatori che hanno contribuito a questi video, che sono veramente simpatici e portano veramente lo spirito che ci unisce già dall'inizio della partnership. Un contest online che si chiama il sedicesimo uomo, perché questo è un torneo a 15 uomini, perché darà la possibilità ai vincitori quasi di scendere in campo con gli altri 15 giocatori. Ci sarà un contest sul sito passionforrugby.rono.it dove chiunque può partecipare, ci sarà una domanda sul rugby e chi risponde positivamente sarà estratto a sorte. Ci sono tre vincitori che avranno la possibilità di vincere due biglietti per la partita dell'11 marzo tra Italia e Francia, sempre sei nazioni, e la possibilità anche di pranzare con la squadra nazionale il giorno prima. Questo contest inizia il 20 di febbraio fino all'8 di marzo, dunque c'è ancora tempo per iscriversi. Saranno consigliate 31 vetture allo staff della Nazionale Italiana di Rugby, dalla Twingo fino all'Espas, e sono già state consegnate le due nostre ammiraglie, che sono l'Espas e la Talisman, al Citi. Grazie a tutti.